salve buongiorno brigadiere buongiorno e dove andate a palermo palermo cosa trasportate che la trasportiamo semplicissime calcolatrici calcolatrici collega dai uno sguardo dai vado vado brigadi brigadi e qua sono tutti i fucili fucili calcolatrici eh nel cofano tutti i fucili sono brigadi noi a palermo e conti così li facciamo non lo sapevo volevo dire non prego può andare brava gente questa eh